Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tutte queste turbulenze sul mercato, turbulenze dei prezzi, turbulenze per cui le imprese che poi debbono fare anche i lavori, i lavori pubblici, hanno momenti di sovraofferta e momenti di scarsità d'offerta, insomma tutto questo altalena è una cosa che mette in grande difficoltà anche l'esecuzione dei lavori pubblici. Superbonus, blocco dei crediti e PNRR, il sindaco Valeria Mancinelli commenta così lo stop ai crediti legati ai bonus, un vero terremoto per l'edilizia pubblica e privata. Superbonus in questo momento è in un momento diciamo di evoluzione normativa, sappiamo che negli ultimi mesi ha rallentato, il governo adesso ha preso delle decisioni che però pare anche su stimolo di tutte le categorie professionali, noi siamo ingegneri ma la rete delle professioni rappresenta tutte le categorie professionali, può portare dei cambiamenti e dei miglioramenti anche perché c'è tutta una situazione di cantieri partiti, di progetti partiti che deve comunque trovare una soluzione. Siamo in attesa di soluzioni che possono venire ovviamente, diciamo che sono più con benefici fiscali per poter fare in modo che si sblocchino tutte le situazioni incagliate, speriamo che ciò avvenga il più presto. Per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR i comuni possono assumere professionisti ed esperti in deroga alle regole sul contenimento delle spese nel pubblico impiego. A tal proposito si inserisce il protocollo di intesa siglato da Anci Marche con le federazioni di architetti e ingegneri per sviluppare formazione obbligatoria tra i dipendenti dei comuni. È un'opportunità di una formazione di qualità, un'opportunità per strutturare e credere in un'amministrazione negli enti locali che formino più che altro il proprio personale per essere impattanti, per essere incisivi sul mercato. Noi come architetti abbiamo una piattaforma nazionale e poi ogni ordine professionale e territoriale riesce a gestire dei corsi all'interno proprio della provincia che poi vengono collegati alla piattaforma nazionale quindi tutti gli architetti d'Italia in realtà possono usufruire di questi corsi. I corsi tendono più che altro a una formazione che formi, non solo che informi. Quindi è questa la nostra decisione, la nostra volontà. Grazie a tutti.